Non mi piace quando un mio ascoltatore, che io pretendo sia all'altezza di quello che io porto, ma non nel senso spocchioso, nel senso sai che ho sempre fatto come mi pare, sai che l'anno scorso ho fatto video di Crescendo, video di Broccolo, video di Rap God 2, tutto nell'arco di... no? È folle, sono tre diversi artisti. Uno è un poeta profondo che apre le coscienze, un altro è un cazzone vestito da Pikachu e un altro è Eminem, no? Quindi non devono aspettarsi, nel senso quando mi scrivono non è come mi aspettavo, pensa che brutto sarà come te lo aspettavi, allora a cosa serve che io faccio una cosa nuova se è come tu te lo aspetti? Perderebbe proprio la funzione artistica, no? Io si devo stupire, ho sempre stupito e sempre stupirò, se dovessi fare fotocopia di una cosa andata bene, magari vende, però io mi sbiadirei, no? Certo.